Si torna a parlare della statua di Andrea Camilleri da posizionare nella centralissima via Roma dove lo scrittore amava sostare seduto in un par della via in Pedoclina. Ed è nei pressi del bar che dovrebbe sorgere la statua della quale si era parlato a settembre nel giorno in cui lo scrittore avrebbe compiuto 94 anni. L'idea della statua a ricordo del papà del commissario Montalbano è condivisa con la strada degli scrittori, l'associazione diretta da Felice Cavallaro. Ma non finiscono qui le iniziative a Porto in Pedocle per ricordare Andrea Camilleri e dimostrare quanto sia vivo il ricordo nella sua città. Il comune di Porto in Pedocle come intende ancora ricordare il maestro Camilleri? Sicuramente è sempre presente nei nostri pensieri. Certamente abbiamo in mente di fare una statua, ci stiamo adoperando in tal senso, lo pensiamo di collocarla in via Roma dove lui sedeva sempre, solleva sedere e ritraerlo in un'immagine di vita. E poi gli dedicheremo il posto che a Porto in Pedocle lui amava di più, che era l'ingresso del porto secondo quanto ci ha detto la figlia Andreina. Ringrazio la casa editrice Sellerio per questa bella donazione che ha fatto al nostro paese di tutti i libri editi da Camilleri con questa stessa casa editrice che fra l'altro è siciliana. Quindi è un doppio orgoglio che un siciliano abbia pubblicato le sue opere con una casa editrice siciliana.